Buon mercoledì mattina, ben sintonizzati sulla prima radio d'Italia RTL 102.5. Sono molto felice di ritrovare questa volta però di fronte a me negli studi di RTL 102.5 di Roma il presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Bentornata. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno Enrico, buongiorno a tutta la redazione. Allora, noi abbiamo due città collegate che sono naturalmente Roma e Milano perché vogliamo dare spazio anche alle domande dei nostri ascoltatori al 378-378-105. Noi siamo very normal people, così come i nostri ascoltatori, quindi ci siamo inventati anche questa. Allora, innanzitutto, come sta? Ci troviamo alla fine, verso la fine di un anno tosto. È la parola giusta? Sì, è la parola, diciamo, più facile forse per raccontare un anno in cui obiettivamente è accaduto più o meno tutto quello che poteva accadere. Ma, insomma, secondo me il segreto è un po' viverla giorno per giorno, come si direbbe Rambo. E quindi cerchiamo di affrontare ogni problema nel modo più pragmatico e serio possibile, guardando sempre all'unico interesse che abbiamo, che è fare gli interessi dei cittadini italiani. Insomma, poi, delle volte si riesce meglio, delle volte si riesce meno bene, ma sicuramente questo è quello che ci muove. Io penso che nel disastro che abbiamo, che ci siamo trovati a gestire, insomma, per la situazione italiana, per quella internazionale, i risultati che bene o male arrivano, racconti di un lavoro che è stato fatto con serietà. Ecco, partiamo da un'immagine, da un'immagine che troviamo politicamente parlando sui quotidiani di oggi, accanto al titolo Bagarre, il più delle volte. Che cosa è successo ieri alla Camera sul salario minimo? Ma, guardi, alla Camera sul salario minimo è successo banalmente che noi avevamo, come lei ricorda, sul tema del salario povero. in Italia ha dato un mandato al CNEL, quindi al luogo che racchiude le categorie produttive, per studiare sia una proposta che arrivava dall'opposizione, che lei sa essere salario minimo orario a 9 euro, e sia, se invece fossero migliori altre proposte per combattere questo tema, che comunque c'è di salari italiani che negli ultimi dieci anni sono cresciuti meno della media europea. Quello che il CNEL ha detto è che, e che in qualche maniera è anche quello che io condivido, mettere un salario minimo orario in una nazione nella quale tu hai il 97% di lavoratori coperti da contratto collettivo nazionale, in molti casi con un salario minimo orario superiore a quello previsto dalla norma dell'opposizione, poteva per paradosso creare un problema, e cioè che quel parametro diventava un parametro non aggiuntivo, ma sostitutivo. Cioè è ovvio che se io ho una legge che dice il salario deve essere minimo a 9 euro, e ho un contratto che dice ho il salario a 10-11 euro, ma chi me lo fa fare di sostenere il contratto? Io mi adeguo al salario minimo e quindi per paradosso rischiavi di abbassare il salario di molta gente che oggi si trova con un salario superiore. Il problema è che però ci sono delle sacche dove il salario anche nella contrattazione è inadeguato e noi abbiamo presentato, la maggioranza ha presentato un emendamento alla proposta dell'opposizione che dà mandato al governo di risolvere il problema di questi ambiti, sono il lavoro domestico, la sicurezza privata per esempio, e oggi, se passa ovviamente sul mandato che il Parlamento dà, noi ci dobbiamo occupare di concentrarci per alzare il salario di chi effettivamente ha dei salari inadeguati senza rischiare di abbassare quelli di chi ce l'ha il salario di chi è messo un tantino meglio. Poi, capisco l'opposizione, Bagarra insomma, l'opposizione un po' sorrido perché obiettivamente oggi 5 Stelle, PD ci dicono il salario minimo è l'unica vera cosa che va fatta in Italia in dieci anni che sono stati al governo, non gli è mai venuta in mente di farla. Così come devo anche dire che insomma mi incuriosisce la posizione di alcuni sindacati che vanno in piazza per rivendicare la bontà del salario minimo, ma quando vanno a firmare i contratti collettivi accettano contratti da poco più di 5 euro l'ora come è accaduto di recente con il contratto della sicurezza privata. Quindi, voglio dire, bisognerebbe essere anche un po' più coerenti, penso, no? Presidente Meloni, Italia-Albania. Nella scorsa intervista avevamo parlato di Albania, ma era estate, l'avevamo parlato per tutt'altro tema. Ieri c'è stato il Consiglio dei Ministri sulla ratifica di questo accordo, si parla ovviamente di immigrazione, accordo criticato da qualcuno. Perché è davvero necessario? Ma guardi, è necessario perché tutto quello che noi possiamo fare per decongestionare il sistema italiano in termini di migrazione illegale secondo me è una cosa utile. Ma io penso che l'accordo con l'Albania, che è un accordo che prevede che in buona sostanza alcuni di questi migranti illegali, soprattutto se vengono da paesi sicuri e quindi più ragionevolmente dovranno essere rimpatriati, ci consente di portare questi migranti in Albania invece di portarli in Italia e di gestire lì sotto giurisdizione italiana le richieste per processarle e poi eventualmente o per accoglierli quando sono rifugiati o per rimpatriarli quando vanno rimpatriati. Io non so perché la sinistra lo contesti così, penso che fondamentalmente lo contestino perché loro sperano che noi non riusciamo a risolvere il problema. Cosa che invece noi stiamo cercando di fare in una realtà nella quale obiettivamente ci confrontiamo con dei flussi migratori senza precedenti. Io penso che l'accordo con l'Albania sia un accordo innovativo, utile. Penso che possa anche rappresentare un precedente se riusciamo a farlo funzionare bene di accordi che si possono fare con molte nazioni da questo punto di vista nel pieno diritto, rispetto chiedo scusa, del diritto internazionale dopodiché l'opposizione, addirittura il PD hanno cercato di far cacciare il povero primo ministro albanese Edirama che è un socialista dal partito socialista europeo perché evidentemente aiutare l'Italia non è di sinistra, che devo dire. Allora Presidente, Premierato, lei l'ha definito la madre di tutte le riforme non le sarà sfuggito evidentemente che in questi giorni c'è chi ha detto beh ma in quel caso se si dovesse concretizzare questa ipotesi il ruolo del Presidente della Repubblica del Colle ne uscirebbe indebolito. Dove ci può portare questa discussione sul Premierato anche in caso di un eventuale referendum? E cosa risponde a quelle critiche? Allora guardi, queste critiche dimostrano che non si sa che cosa dire su questa riforma perché noi non abbiamo toccato i poteri del Presidente della Repubblica abbiamo volutamente lasciato, diciamo inalterato il valore, il ruolo del Presidente della Repubblica in questo caso di Sergio Mattarella che è figura che sicuramente per gli italiani rappresenta un assoluto punto di riferimento tutto quello che noi facciamo con la riforma è dire che chi guida il governo lo devono scegliere gli italiani e questo è il problema di chi contesta la riforma ovviamente perché chi è stato abituato a fare come si dice a Roma il bello e il cattivo tempo facendo e disfacendo i governi all'interno del palazzo sulla pelle degli italiani per realizzare programmi che nessuno aveva votato, per mettere gente che nessuno aveva votato chiaramente ha un problema se si dice guardate che questo gioco è finito e adesso chi governa la nazione lo decidono gli italiani alle urne e ragionevolmente chi viene scelto dagli italiani alle urne ha cinque anni per realizzare il suo programma perché questo è tutto quello che dice la riforma il governo è eletto, il capo del governo è eletto direttamente dai cittadini e con meccanismi di stabilità che consentono a quel governo eletto dai cittadini e stare in carica cinque anni, perché? punto primo perché la sovranità appartiene al popolo, semplice secondo perché la cosa che l'Italia ha pagato di più nella sua storia è l'instabilità dei governi noi abbiamo avuto una media di durata dei governi lungo tutta la storia repubblicana di circa un anno e mezzo, sa che cosa vuol dire? vuol dire punto primo che l'Italia non poteva avere e infatti non ha una visione su niente non ha una strategia di politica industriale, non ha una strategia di politica estera cioè niente, ogni anno e mezzo tutto si ricomincia da capo punto secondo che non hai alcuna credibilità internazionale perché è ovvio che quando gli interlocutori cambiano dopo un anno e mezzo e nessuno vuole fare più accordi con te perché dice tanto chissà quanto duri punto terzo che tutto quello che dà un consenso immediato si privilegia a quello che invece dà sul medio termine un moltiplicatore più ampio cioè noi abbiamo un debito altissimo perché governi che avevano un orizzonte di legislatura di un anno e mezzo chiaramente tendevano a spendere subito per fare consenso e non investivano mai è il motivo per cui abbiamo questo debito pubblico che è fuori controllo e lo sappiamo ma dall'altra non abbiamo fatto investimenti su niente un governo che ha cinque anni di tempo chiaramente ha ragione in maniera completamente diverso perché sai che tu se vieni giudicato alla fine dei cinque anni puoi fare cose i cui risultati si vedono non immediatamente ma magari con più calma quindi io penso che sia la riforma dalla quale dipendono tutte le altre e so che faranno di tutto per impedire di approvare questa riforma io penso che alla fine si arriverà al referendum perché vedo molto difficile che si possa trovare un accordo in Parlamento quando la riforma arriverà al referendum chiederemo agli italiani che vogliono fare e lo so che c'è un sacco di gente che si muoverà contro l'ipotesi che questo cambi però saranno gli italiani a dover decidere se domani vogliono essere padroni del loro destino decidendo chi governa questa nazione o se vogliono continuare a farlo fare a chi obiettivamente ha pensato di essere padrone delle istituzioni e non lo era Allora apriamo una domanda degli ascoltatori Milano Allora i nostri ascoltatori al 378-378-1025 ci chiedono qualcosa sul PNRR in particolare un ascoltatore o un'ascoltatrice che non si firma chiede cosa succede adesso dopo il via libera dell'Europa alla quarta rata aggiungo io tra l'altro con l'ok alla rinegoziazione degli obiettivi è un lavoro importante del ministro Fitto in questo senso Sì grazie buongiorno Allora che succede con il PNRR? Ma succede che diciamo lì nonostante le tifoserie che speravano che col governo Meloni non si riuscisse a mettere a terra il PNRR noi abbiamo ottenuto la terza rata l'ok per la quarta rata e saremo la prima nazione europea a prendere la quarta rata e stiamo entro il 31 dicembre presentando gli obiettivi della quinta rata per un totale insomma che si aggira che supera ovviamente i cento e passa miliardi di euro quindi più della metà del PNRR e tutto questo l'abbiamo fatto mentre rinegoziavamo il PNRR anche qui molto divertente perché io penso che anche molti di quelli degli italiani che ci stanno ascoltando ricordino quando io proponevo la revisione del PNRR perché banalmente erano cambiate le priorità e mi si diceva che era un'idiozia che era impossibile impossibile io penso che impossibile sia la parola che usano quelli che non hanno coraggio perché le cose se sono ragionevoli si possono portare a casa noi abbiamo rinegoziato il PNRR perché? punto primo perché nel PNRR precedente c'erano una serie di cose che non erano finanziabili dal PNRR e quindi noi avremmo perso le risorse punto secondo perché le priorità erano cambiate abbiamo liberato 21 miliardi di euro li abbiamo concentrati 12 miliardi sugli incentivi alle imprese quindi sul sostegno al sistema produttivo italiano, alle aziende e poi li abbiamo messi sulla sanità li abbiamo messi sui giovani e sul diritto allo studio li abbiamo investiti sull'Emilia Romagna con un ulteriore miliardo e 200 milioni di euro cioè ci stiamo facendo cose che secondo me erano prioritarie rispetto ad altre che erano previste nel precedente PNRR e quindi voglio dire nonostante il tifo che è stato fatto contro la possibilità dell'Italia di questo governo di dimostrare all'Europa, al mondo e a se stessa che era perfettamente in grado di centrare questi obiettivi lo stiamo facendo con grande determinazione con grande serietà e anche collaborando obiettivamente con la Commissione Presidente parliamo un po' del centrodestra lei sa che il mantra ricorrente è ma questo centrodestra al governo è davvero unito e da qualche giorno ci aggiungiamo anche la parte del centrodestra europeo anche alla luce di ciò che abbiamo visto domenica scorsa a Firenze con il ministro Salvini come sta il centrodestra e che strada deve seguire anche a livello europeo? Ma guardi il centrodestra sta molto bene, grazie nel senso che, guardi io penso che al di là delle tutte le polemiche le ricostruzioni che noi leggiamo ogni giorno insomma io leggo ricostruzioni secondo le quali ogni giorno insulto un ministro frusto qualcuno ma allora c'è un metro solo per valutare per valutare la coesione delle maggioranze ed è la velocità con la quale i governi riescono a operare io penso che si veda che questo governo lavora velocemente e quando si lavora velocemente è perché è facile mettersi d'accordo e questo accade solo in maggioranze che hanno una visione comune io ho visto governi impantanati su qualsiasi cosa per mesi perché chiaramente quando tu pretendevi di mettere insieme tutto il contrario di tutto ti ritrovavi con non riuscire a trovare una sintesi su niente questo a noi non accade ed è la dimostrazione di una coesione di fondo che al di là delle sfumature dei partiti della maggioranza che sono una ricchezza dal mio punto di vista è evidente e quindi penso che quello che noi siamo riusciti a fare in Italia si debba in qualche maniera tentare di costruire anche in Europa penso che anche il problema dell'Europa sia stato il tentativo di mettere insieme visioni che erano difformi tra loro oggi però obiettivamente noi abbiamo una grande occasione perché lo scenario che si potrebbe realizzare è uno scenario nel quale da una parte si riesce anche nel Parlamento europeo a costruire una maggioranza che è molto più compatibile a livello di visione che quindi forse può dare all'Europa una strategia che a volte forse spesso è mancata dall'altra noi potremmo ritrovarci con istituzioni europee nelle quali l'Italia conta molto di più che è il mio tema che è il mio obiettivo che è l'obiettivo di tutta la maggioranza perché l'Italia può avere sicuramente come già sta avendo un ruolo sicuramente diciamo più importante anche per meglio difendere i suoi interessi nazionali guardi sicuramente in Europa ci sono molti problemi sicuramente anche i metodi di funzionamento sono spesso troppo lenti rispetto alle grandi priorità alle grandi necessità che noi abbiamo però io devo dirle che in un anno che siedo al Consiglio europeo tante volte mi sono resa conto del fatto che alcuni temi che io ho posto nell'interesse italiano banalmente non erano mai stati posti prima o forse non erano stati posti con la stessa determinazione perché poi quando ti presenti con questioni ragionevoli e con soluzioni praticabili qualcuno ti ascolta quindi io penso che noi siamo di fronte a una grande stagione sarà una campagna elettorale sicuramente tosta perché quello che vedo io lo vedono anche i miei avversari lo vedono anche le opposizioni e faranno ovviamente di tutto perché questo non accada ma davvero potremmo ritrovarci domani con un'Europa più capace di dare risposte e nella quale l'Italia conta molto di più Altro tema caldo Presidente Meloni giustizia e politica si è parlato di tantissime cose si è parlato di opposizione giudiziaria ci dice davvero come stanno le cose in Italia Guardi le cose stanno in Italia che anche qui si cerca ogni giorno di costruire questo scontro tra politica e magistratura io non vedo alcuno scontro tra politica e magistratura particolarmente non potrebbe venire da me che essendo persona di destra come si sa ho grande rispetto per chi serve lo Stato e che come si sa ho cominciato a fare politica all'indomani della strage di Via D'Amelio che uccise il giudice Paolo Borsellino quindi io penso che politica e magistratura debbano lavorare insieme per rafforzare la lotta alla criminalità organizzata per rafforzare la lotta alla mafia per rendere più veloce anche la giustizia italiana per combattere le inefficienze dove le inefficienze ci sono penso che i provvedimenti che il governo ha fatto in questo anno dimostrino come vogliamo fare del nostro meglio per dare una mano alla magistratura a poter lavorare con maggiore efficacia con maggiore efficienza e questo è il mondo visto dal mio punto di vista poi che in Italia ci sia una piccola parte piccolissima parte se vogliamo anche se rumorosa della magistratura che per ragioni ideologiche ritiene di dover fare diciamo altro rispetto a quello che è il suo ruolo proprio che ritiene di dover diciamo disapplicare i provvedimenti del governo quando c'è un governo che non condivide o che ritiene di dover diciamo così influenzare il dibattito politico questo è un fatto ma guardi mi ha colpito non tanto per i giudici che stanno lì a disapplicare le norme sull'immigrazione che fa il governo mi ha colpito ancora di più che parlavamo prima della riforma costituzionale che ci sia l'Associazione Nazionale Magistrati che dica che la riforma costituzionale voluta dal governo sostanzialmente è un attacco alla magistratura che proprio non c'è cioè non esiste nella riforma non viene toccata da nessun punto di vista è addirittura una derivante democratica cioè obiettivamente mi colpisce una cosa del genere però io so che questo è un elemento che riguarda una piccola piccola parte della magistratura e non cambia il ruolo il lavoro e il valore che la stragrande maggioranza dei magistrati fa in Italia e che io voglio aiutare in ogni modo anche con una riforma della giustizia che secondo me va fatta perché ci sono elementi sui quali intervenire può sicuramente far lavorare tutti molto meglio Presidente patto di stabilità a che punto siamo? non sono le ore giuste per parlarne dico la verità nel senso che sono ore molto serrate di questa trattativa per cui diciamo su questo mi permetterà se dico qualcosa di meno piuttosto che qualcosa di più perché è davvero un momento molto delicato noi crediamo che chiaramente un'Europa seria debba oggi tenere in considerazione nelle nuove regole della governance le strategie che si è data cioè il punto principale che sta ponendo il governo italiano riguarda gli investimenti noi abbiamo il PNRR la transizione energetica la transizione digitale eccetera eccetera quando si fanno le regole che decidono quali sono i parametri che gli stati membri devono rispettare non si può non tenere conto di quegli investimenti che l'Unione Europea chiede questo è il tema che noi stiamo ponendo chiaramente ci sono altri punti di vista da parte di altre nazioni stiamo facendo del nostro meglio per costruire una sintesi che possa essere efficace ma ragionevole perché l'unica cosa che secondo me non si può fare è dire di sì a una riforma del patto di stabilità che poi non si è in grado di rispettare domande dal pubblico Milano cerco di riassumere perché molti hanno scritto su questo dobbiamo tornare Presidente alla giornata di ieri i funerali di Giulia Cecchettino un caso che certamente ha scosso l'opinione pubblica italiana purtroppo nonostante quello di Giulia i femminicidi non si sono fermati neanche nei giorni successivi insomma si è parlato di molte cose di amore tossico di patriarcato di desiderio di possesso ecco le chiedo qual è davvero secondo lei il punto e come si può agire e glielo chiedo non solo come nel suo ruolo di Presidente del Consiglio ma anche nel suo ruolo di mamma di una bimba guardi grazie dunque intanto sentivo prima la vostra intervista al direttore Fontana e sono d'accordo con lui la giornata di ieri è stata comunque una giornata che in qualche maniera rappresenta una svolta la partecipazione popolare al funerale di Giulia le parole del padre cioè è stata nella tragedia una giornata che davvero potrebbe rappresentare l'inizio di qualcosa di nuovo sul piano culturale perché poi la grande questione è qui cioè io penso che chi ha usato anche l'omicidio di Giulia per tentare di fare un po' di strumentalizzazione politica faccia un grande errore questa è una materia sulla quale noi tutti di destra di sinistra a qualsiasi livello abbiamo un ruolo dobbiamo interrogarci su un mondo che intorno a noi sta cambiando in modo estremamente veloce e che forse noi non stiamo perfettamente capendo a monte chiaramente io penso che il problema sia sempre lo stesso e cioè esistono degli uomini che non accettano l'emancipazione femminile esistono degli uomini che non accettano la libertà delle donne esistono degli uomini che per questo non accettano i no questo è l'elemento alla base di questo problema che noi vediamo ogni giorno e che dobbiamo combattere ogni giorno e chiaramente le leggi nel nostro ordinamento ci sono è sul piano culturale che si può e si deve fare molto di più perché alla fine noi possiamo appunto amore tossico il patriarcato per carità c'è un fondo di verità in ogni cosa ma io penso che il problema vero sia l'assenza di cultura che il problema vero sia la crisi che vivono le famiglie che il problema vero sia la crisi che vive il nostro sistema educativo che il problema sia che non abbiamo capito quanto il covid ha impattato soprattutto sulle giovani generazioni in termini anche diciamo di capacità di socializzare di psicologia che non ci stiamo probabilmente rendendo conto del ruolo che le nuove tecnologie hanno che i social media hanno che i messaggi sempre più improntati al nichilismo al niente alla cultura dei soldi facili del sesso facile quanto sta impattando tutta questa e questo lo dico da madre perché io sono appartengo a una generazione che è la nostra generazione che è la prima generazione di genitori che cresce dei figli completamente digitali senza essere stata completamente digitale io non sono certa che noi riusciamo a capire tutto quello che passa sui telefonini tutto quello che passa sui social tutto quello che passa in quei messaggi così veloci che ti bombardano la testa e non so se lo sappiamo affrontare davvero come genitori allora questo è un grande dibattito che secondo me andrebbe aperto in questa società per capire tutti insieme che cosa non ci è chiaro di questo tempo e come lo possiamo affrontare prendendoci per mano non combattendoci tra di noi mentre le donne continuano a morire io penso che questo sia il tema dopodiché un messaggio consentitemi di darlo le leggi ci sono per difendere le donne ci sono gli strumenti ci sono le istituzioni voglio ribadire alle donne italiane l'ho già detto noi siamo libere e non è normale avere paura di un uomo che dice di amarti c'è un numero di telefono che si può chiamare che è 1522 1522 chiamatelo se avete paura perché c'è qualcuno che vi può aiutare perché le istituzioni ci sono perché la società c'è perché ci sono gli strumenti ci sono gli operatori ci sono persone che sanno come affrontare questa questione se si ha anche paura delle istituzioni oltre a dover avere paura dei propri uomini diventa veramente molto più difficili per cui le istituzioni ci sono ma ricordiamoci che ci sono 1522 facciamo un po' di pubblicità al numero antiviolenza è un bel messaggio questo non è un giudizio politico ma si parla di società quindi mi permetto di aggiungerlo siamo davvero in chiusura ne ho chiesto della manovra ovviamente ci avviamo alla fine dell'anno che lavoro è stato e naturalmente il governo è soddisfatto è stato un lavoro è stato un lavoro difficile perché sa a fare le manovre quando ci sono i soldi sono buoni tutti e a farle quando i soldi mancano che è un po' più difficile noi partivamo da una situazione obiettivamente molto complessa per fare mettere due numeri in fila noi avevamo abbiamo per il 2024 13 miliardi di euro in più da pagare di maggiori interessi sul debito l'aumento dei tassi da parte della banca centrale europea e 20 miliardi da pagare di crediti del super bonus quindi partivamo con meno 33 miliardi normalmente la manovra che si fa a fine anno è intorno ai 30 miliardi quindi siamo partiti con meno una manovra finanziaria ciò nonostante abbiamo fatto una manovra di 28 miliardi in parte chiedendo uno scostamento di bilancio in parte tagliando la spesa pubblica e alla fine abbiamo però poche risorse concentrate su poche grandi priorità e quelle priorità erano la difesa del potere acquisto delle famiglie quindi il mantenimento del taglio del cuneo contributivo per mettere più soldi in busta paga ai cittadini abbiamo iniziato la riforma fiscale accorpando le prime due aliquote quindi abbassando le tasse per chi ha redditi meno basse abbiamo adeguato le pensioni particolarmente quelle più basse poi ci siamo concentrati sulla sanità con un aumento del fondo sanitario che lo porta al massimo storico mai visto prima sempre di più si può fare ma è comunque il massimo storico e ci siamo occupati anche di famiglia perché secondo me di famiglia è natalità perché aiutare le donne che vogliono lavorare a poter mettere al mondo un bambino le famiglie a non dover scegliere tra avere una carriera e avere dei figli secondo me è una delle più grandi rivoluzioni che si possano fare forse un percorso facile e non faticoso per una manovra non si è mai visto nessun governo indipendentemente dal colore questo anche è vero allora intanto vedo i suoi appunti scritti a mano devo dire sono perfette quelli sono gli appunti di Giorgia a titolo della sua rubrica questo è uno di Giorgia dove scrivo le cose da fare le cose che penso e un altro dove scrivo per fissare le cose che mi voglio ricordare di dire perché io sono abituata così le cose se non le scrivo a mano non me le ricordo sono diventata una manuenze a 46 anni però sì scrivo tutto a mano qui ci sono anche molti segreti immagino se ce lo vuole lasciare ci portiamo avanti ma guardi dei segreti me ne sono rimasti pochi perché la mia vita ormai è tutta in piazza è tutta in piazza va bene allora a proposito di social mi dicono e poi davvero ci salutiamo che è nata una mania una mania social la Melody Mania o Melody Mania è tutto partito da un selfie a Copp 28 vero? no è partito molto prima è partito al G20 in India per l'appunto perché io e il primo ministro Modi ci eravamo salutati ridendo insomma quando ci siamo visti questa cosa aveva fatto il giro dei social indiani e sui social indiani era nato questo hashtag Meloni più Modi quindi uguale Melody che ha spopolato io ho scoperto in India è diventato insomma e poi sono nati tutti un milione di meme che tra l'altro sono divertentissimi per chi avesse voglia di andarli a guardare e allora quando ho rincontrato il primo ministro Modi adesso alla Copp 28 gli ho detto senti abbiamo scherzato di questa cosa abbiamo fatto un selfie e io l'ho ripostato e gli utenti sono chiaramente si sono molto divertiti che io ripostassi un hashtag che era stato insomma fatto di meme su di me ecco anche su di me ecco e ricordiamo in chiusura lei è la quarta donna più potente del mondo secondo Fox si figuri come siamo messi è una classifica di queste ore e questo è un dato diciamo non personale le voglio chiedere solo senza naturalmente entrare non lo farei mai in questioni personali se si è parlato troppo quest'anno delle sue questioni personali beh diciamo che si è parlato delle volte senza pietà delle mie questioni personali ecco però alla fine lo metto in testa e si combatte grazie al presidente del consiglio Giorgio Meloni grazie a voi in diretta dagli studi di RTL 125 possiamo già augurarci buone feste e poi naturalmente buone feste buone feste auguri presidente auguri a voi grazie grazie a tutti per averci seguito